I sondaggi in Germania sono concordi nel prevedere l'esploat dei verdi che a meno di due settimane dalle elezioni europee del 26 maggio continuano a crescere attestandosi intorno al 20%, confermato quindi il sorpasso dei socialdemocratici inchiodati al 15%, mentre primi sono i democristiani di CDU e CSU con percentuali fra il 28 e il 30%. Ci si aspetta che qui nel Baden-Württemberg, terzo lente tedesco per estensione e popolazione, i verdi facciano il pieno di voti. Il partito ha intrapreso la via del pragmatismo, una volta c'erano gli idealisti e realisti al suo interno, ora dei primi non c'è più traccia, è il commento di Gernon Stegert che scrive su uno storico quotidiano di Tübingen. La città è governata da un decennio dal partito. Il sindaco Boris Palmer è spesso citato nelle cronache nazionali per la risolutezza delle sue battaglie ambientaliste. Una delle ultime vede l'introduzione di una tassa sui contenitori usa e getta, una prima assoluta in Germania. Tuttavia l'amministrazione non teme di perdere il consenso dei suoi cittadini, in particolare del mondo imprenditoriale. Abbiamo bisogno di risorse per quello che chiamiamo il New Green Deal. Non possiamo fare da soli e naturalmente le aziende sanno che non c'è business se non c'è un mondo in cui farlo, dice Christophe Joachim, che guida i verdi in consiglio comunale. Questi luoghi hanno rappresentato una roccaforte per i democristiani, dice il nostro inviato, ma stanno diventando sempre più verdi. Se il partito farà bene alle elezioni europee, un importante ruolo l'avranno giocato i voti presi qui, nel sud ovest del paese.